Oggi prima giunta, abbiamo affrontato le emergenze del momento e abbiamo fatto il punto sulla situazione economica o finanziaria dell'ente con il dirigente dei servizi finanziari e successivamente siamo entrati subito sui principali cantieri della nostra città, penso ad esempio a Piazza Andrea Costa dove dobbiamo assolutamente intervenire parlando con la ditta e con tutti gli operatori economici, pertanto abbiamo convocato per domani pomeriggio alle ore 17 un tavolo di confronto con loro come avevamo promesso in campagna elettorale per prendere le migliori decisioni insieme. Abbiamo già fissato per martedì prossimo il tavolo economico insieme a tutta la giunta quindi tutte le associazioni di categoria avranno il modo di confrontarsi con la giunta intera e mi auguro che questo appuntamento sia con cadenza almeno bivestrale poi è chiaro che ogni assessore di competenza parlerà con il tavolo economico, quindi sono i primi passi che stiamo muovendo come giunta intera ci sono tante emergenze da affrontare che affronteremo insieme, quindi in totale trasparenza ci piace rendere i doti i cittadini, gli operatori e decidere insieme a loro le migliori soluzioni. Un altro cantiere che è posto all'attenzione della giunta ad esempio è quello all'anfiteatro Rastat dove è indispensabile e prioritario riaprire la passeggiata per permettere a tutti i turisti, a tutti i pedoni, a tutti i ciclisti di passare in maniera protetta e sicura a lungo la passeggiata di Sassonia.